Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Empire of Ember, gioco che è stato curiosamente definito da un utente nelle recensioni Steam come un mix tra un Mount & Blade e un Dark Messiah of Might & Magic, un gioco bellissimo, un combattimento un po' stile Skyrim, dove però possiamo anche costruire il nostro villaggio e buttarci in battaglia. Il gioco come vedete è in italiano, ma è definito proprio in italiano, lo andremo a provare insieme e resta comunque disponibile per eventualmente provarlo in live per approfondirlo. Ecco, dobbiamo partire e iniziamo una difficoltà media che viene definita l'esperienza migliore. Lasciamo avviato il tutorial e lo programmo insieme all'inizio, a quanto io ricordi non è in italiano, cioè almeno le scritte iniziali non lo sono. Noi siamo un ragazzo, il nostro nome è Indie, ovviamente. Abbandonato dai tuoi genitori alla nascita, sei stato trovato da un uomo di buon cuore che ti ha preso nella sua casa. Lui era, potrebbe essere un willpower, un prete devoto guardando per redimere i suoi passati peccati, un sindaco locale, un povero contadino, sì, mi dà constitution però. Mi piace questo, un devoto prete. Un giorno, giocando con i tuoi amici, sei stato, diciamo, soverchiato da un flusso di energia. Ed è partito, diciamo, un colpo dalle tue mani, hai, diciamo, castato un incantesimo per la prima vera volta. Cos'era? Una palla di fuoco. Questo non leggo neanche le altre, voglio fare la palla di fuoco. Quando il tuo maestro ti ha offerto la possibilità di studiare una particolare area di magia, tu hai scelto la distruzione. Perché, guardiamo le altre, la Conjuration, l'arte di evocare armi e armature, migliorare il corpo, assorbimento, proteggere una persona contro il danno magico o altro, distruzione o trickery, no, distruzione. Un giorno, mentre correndo, vagando col tuo maestro, tu sei arrivato a un blocco di farabutti. Che stava, diciamo, assaltando un vecchio uomo. Gli ho parlato, l'ho protetto con una barriera, io gli ho parlato, perché io sono uno che ama parlare. Ok, una notte dopo un giorno di allenamento, la tua mente comincia a wonder, mi sfugge. Che cosa vorresti della tua vita, insomma? Scoprire i misteri persi del mondo. Prima del tuo addestramento, tuo padre è morto, ritornando a casa per ricevere la tua eredità, hai trovato una lettera, un magico artefatto che ti ha lasciato. Un looter ring che ti porta fortuna quando arrivano i tempi oscuri, un feather fall, una piuma che cade, un anello della piuma che cade che ti aiuta a fuggire, l'anello dell'esperienza che... ti dà più opportunità di quello che tuo padre ti ha dato. Ok, abbiamo più uno di leadership, più quattro willpower, ok. Firmo. Ok, non è sottotitolato, magari è un'impostazione da attivare, comunque il gioco dovrebbe partire in italiano dopo, ho voluto farvi vedere proprio giusto l'inizio, perché secondo me è piuttosto intrigante come titolo, e ovviamente dovete mettermi mi piace se vi va di vedere sotto, ma soprattutto lasciatemi un commento, così almeno vedo che vi interessa e ve lo porto in live una sera, se alla fine di questo video di presentazione il gioco dovesse piacervi e voleste rivederlo nuovamente, giocato magari con un po' più di tranquillità, senza la corsa classica dei video. Perché il gioco sembra molto interessante, se cercate qualcosa di simile uscito in questi giorni, anche, mi pare si chiama Legend of Ellaria, l'avevo fatto io tempo e tempo fa, me lo ricorda un pochino questo titolo. Va bene, iniziamo. Si comincia e inizia. La grafica, vedrete, cambierà, perché poi c'è la modalità gestionale, la modalità in prima persona, poi si va in battaglia, la battaglia è composta da fino a 100 unità. Indy, ma dove mi trovo? E Manit mi risponde, prenditi un momento, i tuoi occhi, ok, ma non ho letto in tempo, va bene. Manit, cos'è successo alla mia camera da letto? Sto sognando, non è un sogno, giovane apprendista, è un test, è giunto il momento per te di fare il passo successivo della tua formazione, ma non mi sono preparato per questo, no, infatti un portatore di luce deve imparare a gestire l'inaspettato sempre. Usiamo i tasti VASD per muoverci, graficamente, come dico, non è miracoloso, ma mi sembra ben definito. C'è qualche effetto in mezzo? Probabilmente dovrei attivare il blocco, la sincronia verticale. Non è ancora tradotto tutto in italiano, in effetti, eh? Ti senti ansioso. Ma riguardo a prendere quest'arma, io la prendo. È strana, è maledetta. Cosa? Lo scoprirai durante la prima notte di nozze. Che sorta di te starebbe questa? È una parola su ciò che ti ho insegnato. Se avrei successo, avrei fatto il primo passo per diventare un portatore di luce. Premi il contro sulla tastiera per raccogliere oggetti con il tuo incantesimo di telecinesi. Che spettacolo! Che spettacolo, ragazzi! Posso anche raccogliere quello? No, non credo. Sì, invece! E si distrugge anche la candela. Che spettacolo. Devo capire bene come funziona. Ok, vabbè. Che posto è questo? Sei nella tomba di carota di inflessibile. Nella vita si preoccupava solo del potere e infanzia la sacra tradizione dei portatori di luce quando la sua braccia fu sepolta con lui e il tuo compito è recuperarla. Ok. Ah, stare senza attaccare si recupera a mana. Ok. Andiamo. Avvicinati all'interruttore e quindi premi F per usarlo. L'interruttore è qua. Ok. Hai aperto un portale per il santuario interno di carota. Sbrigati prima che si chiude. Ok, corriamo. C'era un po' l'effetto di... Adesso vediamo se riesco a attivare la sincronia verticale. I seguaci di carota furono se porti con lui e la sua magia anima i loro cadaveri. Questo è il potere di un abbraccio. Il loro effettore è terribile. Abbatteli come ritieni opportuno. Non provano dolore. Grazie che me l'hai detto. Non posso... Ok, vediamo un po' se riesco a attivare la sincronia verticale che è veramente brutto da vedere. Vedete che qua ancora... Qualcosina è ancora in inglese. Allora, vediamo un po' se c'è modo di attivarlo. No, sono qua forse. Sì, infatti. Vediamo questo. Vediamo se me lo fa ancora qual'effetto. Forse un filino. Vabbè. Previ una barra spassata mentre ti muovi per saltare. Perfetto. Ah qua, mi ricorda sì in effetti Dark Messiah o Might and Magic che giocai ai tempi. E' la parata. Olè. L'altro è finito di sotto quindi noi ce ne andiamo avanti e lo lasciamo perdere. Però potrei prenderlo con la telecinesi. Posso? No. Non si può ma mi lancia i sassi quindi mi tira le pietre. Vabbè, andiamo giù. Uh. Avvicinata la bacchetta per i miei F per scambiarla con la tua mazza che mi piace di più. Sì, in effetti. Questa è una prendesta che ha fallito? Vabbè. Ah, mi immagini che immagazzinano cariche nel tempo. Ti è invenuto il pulsante sinistro del mouse per consumare queste cariche. Ok. Abbiamo, vedete, sotto la barra veloce il mana e tutto. ma sono immobilizzato perché? E la 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 che bello! Sto consumando anche mana ma... che è molto carino. Calcolando che non è il gioco non è tutto così. Si costruiscono edifici e si fanno cose, quindi è dovere interessante. C'è qualche scattino ma è normale calcolando che è un indie. E sapere quando attaccare e quando corre. Come faccio a sapere? Non puoi saperlo. Ricorda sempre il trucantesimo. Mannaggia. Mi stanno sdrumando. Sono morto. Vabbè, intanto rifacciamo questa. Sì, poi ci sono dei suoni che vanno e vengono. Mannaggia. Ha finito la carica. Devo aspettare che si ricarichi. Ok. Mamma mia l'ha ghiacciato proprio dentro qui. Ok. va bene. Andiamo avanti. Avvicinata all'arco per scambiarlo. Ah, ok. Ci sta facendo provare tutte le armi. Vediamo un po'. Ti è venuto. Ok. Ah, ma non c'è un mirino. Mentre il cristallo alla faccia cerchi da gioco poi ci dico in cautela. I barili di oli e di olio in balsamazione possono esplodere. Ah, il mirino è quello lì. Via. Eccolo lì. Il mirino è comparso adesso. Fuggi, 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 fuggi. Vai. Ok. Ok. Ok, grazie del lot. E l'altro è ancora là, eh. Eccolo lì. Ok. Doh, doh, che male. Ok. Dai che l'abbiamo ucciso. Ai, vedo a arci. Ecco. E' vero che avevo sperato fosse... Mi sono sbagliato. Uh, eccolo qua. Ok. Che devo fa'? Oddio. E' lo sconto col boss. Sì. Ma, l'avevo affrontarlo con l'arco? Ahia. Cioè, è difficile, cazzo. È difficile, sì? Ma dov'è? Ehi. Eh? Sarà uno scontro molto lungo. Eccoti. Ciao. Ok, vai via che mi riprendo la bacchè. Eh, no, non posso più prenderla. Ho portato con l'arco, per forza. Salve. Ok. Dai, finisce addosso a uno di... No, ma è così morto. Non è uno scontro lunghissimo, devo dire. Eccoti. Salve. Ho ucciso. Prendi la braccia. Te la sei guadagnata, perfetto. Perfetto, abbiamo lasciato. Lo spirito di Crozzo svanì nell'aria e Indy raccolse con l'attenzione al cristallo Ember nella sua tomba di pietra. Lui non l'aveva mai toccato prima d'ora, era più leggero di quanto avesse immaginato, quasi da poter fluttuare da sola, ma il potere al suo interno fu chiaro nel momento in cui le mani di Indy la sfiorarono. Era qualcosa di bellissimo, di misterioso e di grande responsabilità. Indy mise via l'Ember preparandosi al viaggio di ritorno alla torre di Manity. Il vecchio portatore di luce avrebbe sicuramente saputo come iniziare al meglio l'insegnamento. Scegli l'arma iniziale. Io scelgo la bacchetta. A medio raggio, perché a lungo raggio abbiamo l'arco, a corto raggio abbiamo la mazza. Sono insomma le armi melee. Quindi iniziamo così. Non so ancora dirvi, adesso non ricordo esattamente il prezzo di questo titolo. Però sicuramente è particolare e non si può comunque vedere un video di 20 minuti, perché comunque c'è tutta la parte gestionale dove si costruisce il villaggio. E' per questo che io vi ricordo ancora una volta, scrivetemi questo atto nei commenti se volete vederlo in una live e lo facciamo. Poi magari lo faccio comunque la sera perché voglio approfondirlo anche io insieme a voi, però sempre e comunque... Ma perché non hai portato l'attuatore? Non l'ho letto, mannaggia, va veloce. Sì qua... Graficamente non è proprio meraviglioso, però ovviamente parliamo sempre di un indie, quindi... Salve! C'è un fettore nell'aria, Manit. Non ho mai sentito niente così orribile. Ho appena visto un esercito di Goblin avvicinarsi. Mannaggia, me li facessero leggere. Dobbiamo difendere. No! Scusate, mi è partito un colpo. Questa è una follia. I Goblin non sono mai stati così organizzati. Qualc'altra forza deve guidarli. Non si può salire sulla scala e vedere. Ho bisogno che ti metti in salvo. C'è un portale vicino alla torre e usalo per scappare. Eh, ma lascio tutta la gente qua così. No, Mani, posso aiutare. No, un portatore di riuscire deve sapere quando combattere. Ok, quello che pensavo che io... Minchia, stanno arrivando le... Stanno arrivando i colpi di catapulta. Che bello. Però carino qua tutto con la gente. I maiali. Hanno buttato giù la porta. Guardate i Goblin che si vedono là in fondo. E quello lì? E c'è chi la prende allegramente, insomma. Va bene. Diamo via col portale, va. Da una collina a una distanza di sicurezza, l'apprendista guardò la città bruciare, i Goblin massacrariano gli innocenti. L'apprendista guardò il frammento di braccia e si chiese quale fosse la sua utilità se non veniva usata per coloro che ne avevano bisogno. Non potendo più stare lontano, l'apprendista tornò di corsa in città, pregando che non fosse troppo tardi. Vediamo. Vediamo, dovremo ricostruire la città come minimo. Perché poi dovremo anche difenderla. E quindi potremo comandare in battaglia le nostre truppe. Indy poterò sentire il lamento ancora prima di raggiungere la porta della città. Questo fu presto accompagnato dal crepitio delle fiamme e dai gemiti disperati dei morenti. Mentre lui scavalcò le macerie dei cancelli della città, l'orribile realtà si fece chiara. Magias era stata distrutta. L'untempo grande torre di Manite era una rovina e i fulmini ultraterreni viaggiavano nel cielo come attigli spettrali. Indy si precipitò verso la torre, verso Manite, anche se lui temeva che lui l'avrebbe trovato all'interno. Indy trova Manite, morrente sul pavimento della sua camera con il sangue che sgorgava dalle sue ferite più velocemente di quanto qualsiasi Benda potesse fermare. La sua potente magia era inutile in questo momento mentre cominciava a perdere coscienza. Non c'era niente da fare se non collare il suo corpo e aspettare la fine. Con il suo ultimo respiro, Mani sussurrò Adesso è il tuo momento. Vendica tutto questo. Indy sapeva che il cristallo Ember di Manite conteneva i semi della rinascita nelle sue sfaccettature lucenti. C'era sangue da pulire, morte da vendicare. Ma in quel momento, la gente di Magias aveva bisogno di una casa e Indy improvvisamente comprese la responsabilità che gravava su Manit ogni ora di veglia. Leggevo sempre comunque veloce per paura che si chiudesse. Poi in realtà c'era il tasto continuo. Ok, e qua iniziamo la componente gestionale. Tenere premuto il pulsante destro del mouse e trascinare per spostare la telecamera. Ok, eccolo qua. Si, dovrà essere secondo me un po' ottimizzato a livello di fluidità. Qua abbiamo diverse cose. Abbiamo il cristallo Ember. Non è tradotto questa cosa. La popolazione, i soldi. Abbiamo gli libri magici. Per fare gli studi, per la ricerca. Abbiamo il metallo, lo steel, l'acciaio e il legname. Clicco sulla torre. Ah, qua invece è tutto tradotto. Trasla, ruota, scala. Ok. Edifici, torre. Scegli il tuo prossimo edificio nel pannello in basso. Premi controlli, vedi in alto a destra se non sei sicuro di cosa... Ah, ok. Possiamo spostarlo. Ah, spettacolo. Cosa devo fare? Il fabbro. La fattoria. No, io direi di iniziare a fare la fattoria perché abbiamo bisogno di mangiare. Controlli video. Vedete, potete andare a spostare... Sì, ok, grazie. L'asposto. Ah, la posso mettere così, ok. Sì, 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 sì. Sempre un tasto maiuscolo per attaccinare l'oggetto allineare con le superfici sotto pulsore, ok. Ah, qua possiamo muoverla così. Poi possiamo girarla di qua. Non si può ruotare. E è ruota. Ah, ok. Mi ricorda molto la cosa, diciamo, di Planet Coaster. Ok. Conferma. Ok. Costruzione completata. Premi rischi per entrare nell'altra torre. Ok. Abbiamo iniziato a costruire... Abbiamo costruito una fattoria? Scusatemi, signore. Permettetemi di presentarmi. Il mio nome è Abbas in qualità di capo della Curia Regis di Manit. Volevo farvi sapere che quelli di noi del Consiglio che sono proprio vissuti all'attacco desiderano servirvi come possono. Karma più 1, grazie per la vostra presenza. Prendendo la massima realtà richiede Leadership 2, che non abbiamo perché ne abbiamo uno. Grazie per la vostra presenza. Abbiamo visto crescere e crediamo tutti che farete la cosa giusta. Solo voi potete ricondurci indietro da questa devastazione. Vi abbiamo visto crescere e crediamo tutti che farete la cosa giusta. Ok. Questo l'ho già letto. Avrò bisogno di tutto il reto possibile. Per trovare gli assassini faremo tutto il necessario. Durante l'inventario di beni e mali ci siamo imbattuti in questa maschera. Abbassolevo la maschera. Le curiosi segni e rossi. Durante l'inventario... Ok. No, sto continuando a leggere. Ah, gli assassini indossavano questa maschera. Continuiamo a setacciare gli archivi per trovare informazioni. Questa maschera è la chiave per trovare gli assassini. Infatti, la parola si diffonderà una mossa molto scalta da parte vostra, mio signore. Ok. Va bene. Quello lì in fondo è un minotauro. Deve essere ancora abbastanza ottimizzato, però devo dire che non è male. Questa è la tua torre da mago. Può interagire con diversi oggetti. C'è una quest che ti aspetta in sale del trono dietro al battente e a testa di leone. E chi è che sta bussando? Abbas è entrato nella stanza del trono e si inchinuò dinanzi a Indy. Abbiamo avuto un certo successo nella nostra caccia. Abbiamo individuato gli assassini mascherati, ma abbiamo trovato i goblin. Dove si trovano? Piccoli bastardi rinfestano le colline a ovest di Breenberry. Quelle schifose, ok. E in Indy, i nostri esploratori hanno quasi liberato la propria posizione vomitando trecce spugli. Beh, sono sopravvissuti. Ok, accettala questa. Raduna la mia gente, sembra che oggi andremo a caccia di goblin. Va bene. È un mix di traduzione inglese e italiana. Puoi reclutare soldati addizionali. Usa la spada vicino al portale blu. Design your city. Ok, questo è il pannello in cui possiamo costruire spendendo materiali. Il pannello inferiore rimostra gli edifici disponibili. Ok, abbiamo un incremento. Abbiamo la biblioteca della fattoria, devo fare il fabbro. Il fabbro lo mettiamo qui. Qui. E poi lo ruotiamo così. Magari lo muoviamo anche un po' così. Ok, confermo. Ah, stanno ancora costruendo la fattoria però. Posso confermare? Sì. No, non me lo conferma. Non me lo fa fare? Non abbiamo soldi abbastanza? No, credo che... Accetta. No, è... Ah, allinea. Ok, ok. Accetta. Perfetto, dovevo allinearlo al terreno. Perfetto. Due giorni per farlo. Perfetto. Vediamo un attimo cosa abbiamo qui. La spada per reclutare. Ma non posso andare in giro per la città. Niente che richiede attenzione, no? Qua sotto invece cosa abbiamo? Guardati intorno per la città. Ok, qua si può uscire. Ok. Qua c'è la fattoria. Qua c'è il fabbro. Però non è ancora funzionante. Parla. No, infatti non funziona ancora qua. Qua è interessante. Esca per andarcene. E qua si può andare a reclutare popolazione. Unità che puoi ricercare e addestrare. Occasionalmente ti verranno fatte missioni speciali nella tua sala del trono, ricompensandoti con nuovi tipi di unità. Le unità nell'addestramento sono elencate qui. Puoi annullare le unità nell'addestramento per recuperare il costo dell'addestramento. Le unità non sono disponibili immediatamente. Il tempo passa. Mentre si viaggia o si riposa. E... Dovrei tornare a addestrare più unità. Ok. Dobbiamo ricercare questa unità che è la CR femminile. Ah, risorse insufficienti. Sì, perché abbiamo speso tutto per il... Che sono un pirla, perché ho speso tutto per fare il fabbro. Costruisci un market per avviare i commerci. Ok, grazie. E qua abbiamo il portale che ci porta in una distanza, in una località distante. Allora, vi faccio vedere questa ultima cosa e poi magari attacchiamo con una live direttamente. Quando... Possiamo equipaggiare le armi, ma non abbiamo assolutamente nulla al momento. Viaggio. Vedete? Questa è la mappa. Che spettacolo! E si può viaggiare qui. Quindi clicchiamo lì e vedete che adesso passeranno presumibilmente i giorni. Sì, passano i giorni. Giorno 2, infatti abbiamo guadagnato i soldi. E siamo nella location, abbiamo esplorato e siamo andati a uccidere i goblin. Ora dovremmo vedere l'ultima parte che è quella del... Ai piedi della collina, indire di nuovo l'esercito, l'esploratore principale è una donna abbronzata di nome Haridan. Indico il pollice, le colline, va bene. Devo solo trovare un collegamento, non abbassare la guardia. I goblin sono implacabili, va bene. Ho bisogno dei tuoi occhi, non della tua mano. Va bene. E qua siamo... Noi che andiamo, ma non abbiamo truppe e le potremo avere in futuro sicuramente. Bene ragazzi, allora io interrompo qui. Siamo pronti ad assaltare i goblin. Torno almeno principale. E vi chiedo solo se vi interessa vederlo in live, ve lo ripeto di nuovo. Il gioco costa, scusate, 20 euro, 21 euro. Ho guardato adesso. E scontato attualmente, vabbè, a 16,79. Quindi non è tantissimo. Lo danno in italiano, ma in realtà è già lodevole il fatto che sia in early access sia già in italiano, ma non tradotto del tutto. Il gioco è uscito il 31 di marzo, quindi appena uscito. Ha già la lingua italiana, che dovrà essere ovviamente aggiornata. Pensano di rimanere in early access per un po' e, da quello che dicono, pensano in tre mesi di completare le features e poi bilanciare il tutto. Però, ovviamente, questo potrà avere delle differenze. Al lancio avranno comunque tutta la storyline, tutti i livelli completi, tutte le features di gioco. E attualmente il gioco sarebbe anche giocabile, con dungeon, combattimenti, assedi e missioni. Mancano ancora, ovviamente, incantesimi, cioè non ci sono tutti, insomma. Stanno lavorando per migliorare l'endgame, le fasi più avanzate di gioco. Dicono che il 95% della localizzazione è fatta e devono comunque riguardarci. Quindi, insomma, questo è quanto. Questo era Empire of Ember, fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Non mancate qua sotto i commenti se volete una live su questo titolo. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao! Grazie a tutti!